Sono Andrea Ficilli, la mia idea imprenditoriale è quella di organizzare degli eventi. Credo che in un contesto banale e informale come un aperitivo milanese ci sia non solo il bisogno di socializzare e il bisogno di food and beverage in generale, ma sia un bisogno necessario per i giovani, anche quello di condividere delle informazioni prevalentemente su tre tematiche principali che sono la conoscenza della città di Milano, il rispetto della legalità e della fiscalità, quindi sensibilizzare i giovani al chiedere lo scontrino fiscale e inquadrando questi eventi in un'ottica ecosostenibile. È indirizzato prevalentemente a giovani studenti e lavoratori milanesi, quindi un target ai 18 e ai 28 anni. Grazie, ciao.